Nella riserva di Sant'Angelo Muxaro si è conclusa dal 23 al 25 aprile la terza edizione del campo speleologico. L'iniziativa è stata organizzata dal presidente del gruppo speleologico Camicos, Angelo Spoto, e dal funzionario della riserva Giovanni Buscaia, in collaborazione con l'ente gestore della riserva, Lega Ambiente, e con l'associazione Val di Cam. Siamo finalmente arrivati alla chiusura della terza edizione del campo speleologico, fortemente voluto da Angelo Spoto e Giovanni Buscaia, che hanno organizzato queste tre splendide giornate. Hanno organizzato il tutto con molta passione, a questo terzo campo quest'anno ha richiamato veramente tanta gente, abbiamo avuto molta affluenza, le giornate sono state ricche di passeggiate e trekking naturalistici, ma anche grotte speleologiche sia per i neofiti, i meno esperti, ma anche per gente più esperta. Si è concluso con successo il terzo campo speleologico organizzato dal gruppo Speleo Camicos. All'iniziativa è aderito anche la riserva naturale Grotta di Sant'Angelo Muxaro, gestita da Lega Ambiente. Hanno partecipato persone provenienti da tutta la Sicilia, sono state effettuate una serie di visite speleologiche a diversi gradi di difficoltà. Hanno partecipato professionisti che si sono cimentati in discese su pozzi verticali che raggiungono la profondità anche di 90 metri, ma si sono fatte anche visite aperte a chi si avvicina per la prima volta al mondo della speleologia. In particolare sono state visitate le grotte presenti nell'area del Vallone Ponte, si tratta di una serie di trafori idrogeologici facilmente percorribili, è stato possibile anche osservare la natura, che tra l'altro in questo periodo desplendita, abbiamo tutte le foglietture primarile, ci sono gli odori di piante aromatiche che crescono su gessi. Ma non è stato di solo natura, infatti è stato possibile effettuare anche delle passeggiate che hanno permesso di visitare le numerose necropoli presenti nel lago di Sant'Angelo Muxaro. È stata effettuata una passeggiata fino a Pizzo dell'Aquila, uno dei rilievi che domina l'ampia valle del Platano e dal quale è possibile vedere buona parte della Sicilia. Si vede infatti dall'Etna fino praticamente a Caltabellotta. Sono state effettuate anche delle passeggiate notturne. In particolare è stata suggestiva la passeggiata che ha consentito di osservare la necropoli grotticelle con la luce della luna. Non sono mancati momenti di ricreazione, con pranzi e cena organizzati nel campo, con prodotti tipici. Riteniamo che iniziative di questo tipo siano molto importanti per lo sviluppo turistico, valorizzano sia le risorse naturali presenti in questo territorio, ma anche quelle culturali. Si è conclusa la terza giornata di questa iniziativa a Sant'Angelo Muxaro e stiamo lavorando per il quarto campo sperio che vogliamo prolungare qualche giorno in più e inserire altre itinerari, altre grotte dal livello turistico e anche al livello speriologico più tecnico. Speriamo che questa manifestazione diventi una manifestazione a livello importante anche per far venire altri speriologi anche fuori dalla Sicilia e così magari per condividere un po' tutte le nostre bellezze che abbiamo qua nel territorio di Sant'Angelo Muxaro.